Ciao a tutti, sono Ionida Feratti, un'ex alunna del Grandis. Mi sono diplomata circa due anni fa all'indirizzo tecnico-turistico, mentre adesso sono al secondo anno di infermieristica. Il Grandis per me è stato un percorso, anzi chiamiamolo meglio un viaggio, attraverso la storia dell'arte, il turismo, ma anche imparare altre lingue nuove che al giorno d'oggi sono molto utili. Alla fine di questo percorso, questo indirizzo vi fornisce una formazione completa che vi permette di lavorare, ma anche delle basi solide per poter continuare gli studi. A me principalmente questo indirizzo è stato molto utile, soprattutto le lingue, perché nei vari tirocini ci è capitato che arrivassero dei pazienti che non parlavano italiano e in questo caso l'unica soluzione era parlarli in lingue diverse e quindi molto utili. Per quanto riguarda l'ambiente non c'è nulla da dire, anzi io mi sono sentita sempre parte di una grande famiglia, una famiglia che è sempre pronta ad aiutarti, i professori sono sempre disponibili per qualsiasi problema, anche fuori dalla scuola, ti aiutano, ti seguono, cercano di aiutarti il più possibile. Io ho scelto questa scuola perché io ho sempre avuto la passione per i viaggi, scoprire il mondo, imparare nuove lingue e quindi se anche voi avete queste passioni, io credo che questa scuola faccia per voi e anzi non ve ne pentirete se la scegliete.